Allora Carlo, dove si state? Ma facciamo quello che avevamo in programma? Suggerisci di affidarci a un tour esperto? Cerchiamo una guida alpina, ci sono quelle certificate CE. Di questo cosa ne pensi? Credo che sia perfetto. Pronto? Buongiorno, avremmo bisogno di una guida alpina possibilmente certificata CE per il passo dei mondelli. Vabbè, vengo io, vengo io, vabbè. Un po' di fauna. Has visto che sono stanco, aspetta che non l'ha fatto più. Carlo, a guardare la nostra guida, guarda, tieni conto che l'abbiamo tagliato Ma sai che mi son trovato proprio bene con questa guida certifica alla Cine? Anch'io! Allora l'anno prossimo? La facciamo ancora? Andata! Speriamo che i due milanesi la rompivalle, non mi chiamano più l'anno prossimo, speriamo, mamma mia!